Siamo al Parco della Vettabbia, a due passi da Piazzale Corvetto, questa è una delle tante manifestazioni che il Municipio 4 di Milano ha organizzato oggi in occasione della Green Week, ma anche di Pets in the City, della Pet City di Milano, cascine aperte, molte manifestazioni legate alla natura, all'ambiente, agli animali, avremo un concorso per cani, ci saranno momenti aggregativi lungo tutto l'arco della giornata di oggi e di domani. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La staffetta lungo l'Ambro è il secondo dei tre eventi che è stato promosso dal dall'Osservatorio per il Lambro Lucente. Oggi abbiamo avuto la presenza di bambini che facevano un lavoro con l'orto verticale, abbiamo avuto la presenza degli arcieri che insegnavano come fare un arco da un pezzo di legno e un bellissimo concorso per cani dove si è stato assegnato il premio al canne della Vettabia.